Gestione del de minimis In questa parte del corso andiamo ad analizzare come si deve gestire il de minimis perché come riporta l'articolo 3,3 del regolamento dell'Unione Europea numero 1407 del 2013 questo regolamento lo troverete molto spesso in tutte le normative che andrete a vedere poi per i singoli bandi prevede che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare i 200.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari che scendono a 100.000 euro per il trasporto merci su Stata conto terzi e poi ci sono delle specifiche regolamentazioni per settore pesca e per settore agricoltura che poi vedremo Io ho evidenziato quelle che sono le frasi chiave quindi impresa unica 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari Questa è la tabella di riepilogo del de minimis per le varie casistiche quindi limite ordinarie come abbiamo visto sono 200.000 euro e la normativa di riferimento è il regolamento europeo 1407 del 2013 per il trasporto merci su Stata conto terzi come abbiamo visto il limite scende a 100.000 euro sempre in tre esercizi e il riferimento è sempre il regolamento 1407 del 2013 per la pesca abbiamo invece il regolamento 717 del 2014 che stabilisce un limite molto più basso pari a 30.000 euro e per l'agricoltura con il regolamento 1408 del 2013 il limite è fissato a 15.000 euro sempre nell'arco dei tre esercizi Per gestire il de minimis dobbiamo un po' vedere quelle che sono le caratteristiche dei contributi quindi partire intanto da capire quelli che sono i contributi che vanno nel de minimis vanno ad impattare su questo plafond e quindi sono aiuti di Stato e quelli che invece non sono aiuti di Stato e che non vanno ad incidere nel de minimis la dobbiamo capire quando siamo in presenza di un'impresa unica e infine dobbiamo procedere poi al calcolo del de minimis vero e proprio che è un'impresa un po' vedere Grazie.